Punti di forza ma anche aspetti da migliorare per lo scalo del capoluogo dopo brindisi visita istituzionale di senatori onorevoli e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle al porto di Bari. Covid contagi in calo in Puglia e casi ancora elevati secondo l'Istituto Superiore di Sanità ma resta ancora alto il numero di occupazione dei posti letto pari al 23,3% nel barese le positività si riducono dell'8% nell'ultima settimana. Non solo il corteo storico fissato il calendario delle manifestazioni religiose e civili in onore di San Nicola a Bari si parte il 20 aprile con l'anniversario della partenza da Mira dei Marinai, otto giorni dopo il sorteggio dei pescherecci e domenica 8 la pattuglia tricolore. Buongiorno ancora insieme per un nuovo appuntamento con l'informazione dalle province di Bari, BAT e Foggia. Iniziamo dal capoluogo pugliese dove questa mattina parlamentari e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno fatto un tour istituzionale all'interno del porto del capoluogo. C'era per noi Domenico Brandonisio. Dopo brindisi proseguono a Bari le visite istituzionali ed itineranti della delegazione di parlamentari, senatori e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle presso la capitaneria di porto del capoluogo pugliese, è stato effettuato un sopralluogo generale allo scopo di fare il punto della situazione sui punti di forza ma anche sugli aspetti da migliorare su strutture e settori ad essa collegati. Quelli che sono gli sviluppi nell'ambito di Termina Crociere, del nuovo progetto per il porto, per la parte della Guardia Costiera e la molo quello per la dibortistica, dobbiamo verificare in particolare se ci sono possibilità di facilitare i percorsi parlamentari. Tanti stranieri verranno in Italia e ha ancora maggior ragione tutta la nautica da di porto come quella anche croceristica sarà importante per Bari, ma non solo per Bari, per tutta la buia, per tutta l'Italia. Siamo felicissimi di poter accompagnare in questo percorso di conoscenza e di approfondimento appunto questi illustri esponenti consapevoli del fatto che la risorsa mare impone una visione sistemica e direi olistica dell'ambito marittimo. La direzione che abbiamo imboccato è sicuramente quella giusta perché i traffici crescono stabilmente nella misura del 10 anche di più all'anno nonostante la pandemia e gli eventi che ci hanno. Quello che noi vogliamo fare è anche dare un volto verde con un cuore verde, quindi mostreremo le nostre progettualità, il sistema, diciamo, le ferre che abbiamo visto, le rinnovabili sui tetti, sulla paleolica, qui abbiamo una stazione off-grid che ho illustrato ai parlamentari e anche il futuro, cioè il cold ironing, l'idea di un porto comunità energetica. Andiamo avanti con la cronaca. Oltre 3 milioni di litri di falsi primitivi Chardonnay, Pinot Grigio e Merlot, sequestrati questa mattina dalla Guardia di Finanza nel Foggiano perché riportavano falsa attestazione IGP. Primitivo Chardonnay, Pinot Grigio, Falanghine e Merlot con falsa indicazione IGP. La Guardia di Finanza di Foggia ha denunciato 14 persone per aver immesso sul mercato vini con falsa denominazione di indicazione geografica protetta, circa 3 milioni di litri. Il valore commerciale del vino sequestrato è stato stimato in circa 2 milioni e mezzo di euro. I finanzieri hanno individuato quattro aziende vitivinicole tra Cerignola, Torre Maggiore, Orta Nova e Foggia che avevano commercializzato l'alcolico pronto per essere mandato sugli scaffali dei negozi e supermercati della regione non solo. La raccolta e l'analisi degli elementi informativi presenti nelle banche dati in uso alle forze dell'ordine arricchite da aereofotogrammetrie dei terreni interessati dalle presunte coltivazioni di vini e indicazioni geografiche protette hanno permesso di ricostruire e di evidenziare anomalie tra le tipologie di uva prodotte e quelle realmente conferite alle imprese vinicole nonché la reale capacità produttiva dei siti coltivati. Sono stati quindi eseguiti mirati controlli indirizzati a verificare le ipotizzate discrasie che hanno consentito di raccogliere circostanziati elementi indiziari circa la ipotizzata condotta illecita tenuta dai legali rappresentanti delle citate imprese vitivinicole coinvolte e da altri 8 soggetti che a vario titolo avrebbero concorso al fittizio conferimento di uve, IGP e generiche. Andiamo nella BAT, un autobus Flixbus ha preso fuoco sulla A14 nel tratto tra i due caselli autostradali di Andrea e Canosa, tutti illesi i passeggeri. Antonio Gargano. Momenti di paura sulla A14 nel tratto che collega Andrea e Canosa, un autobus del gruppo Flixbus ha preso fuoco all'altezza del chilometro 610,5 creando numerosi disagi alla circolazione e un grosso spavento per i passeggeri a bordo del mezzo di trasporto ancora ad accertare le cause dell'incendio ma il conducente del bus ha accostato dopo essersi accorto di un malfunzionamento piuttosto serio. Le fiamme hanno creato una grossa nube tra i due caselli autostradali con il traffico che si è successivamente bloccato in direzione Pescara, circa 3 km di coda sulle strade della BAT, mezzi di soccorso intervenuti a stretto giro per mettere in sicurezza l'intera zona sul posto, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione Ottavo Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia, tutti illesi i passeggeri del bus. Mafie diverse per ogni territorio pugliese e particolare attenzione alle infiltrazioni nell'utilizzo dei fondi per il PNRR. Il punto sul report del primo semestre 2021 della DIA con il capo del centro di Bari, il colonnello Dimash. Sentiamo. La criminalità organizzata del pugliese tuttavia non ha una connotazione unitaria, chiaramente varia a seconda delle province pugliesi con una diversificazione tra le varie province. Dalle infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni pubbliche alla società foggiana, la criminalità organizzata nel barese e nella BAT con le sue ramificazioni verso i Balcani per l'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e ancora il capologo pugliese dove ci sono ancora due clan egemoni e gli inserimenti nella malavita tra i colletti bianchi dalla quale si vince che la mafia non è un fenomeno rurale ma stratificato ormai anche nell'economia. E questa è la fotografia che il report del primo semestre 2021 della Direzione Investigativa Antimafia scatta per la nostra regione, un territorio in cui ci sono diverse mafie, tutte ben localizzate, che operano nei loro spazi di manovra e dove nel prossimo futuro arriveranno i fondi del PNRR da tenere sotto stretto osservazione. La situazione è una criminalità molto interessata agli affari, all'economia, anche recenti attività investigative hanno portato alla luce un particolare interesse per i settori dell'economia, peraltro con interazioni non solo nella provincia e nella regione ma anche con proiezioni fuori regione. Il livello di attenzione va mantenuto sicuramente alto, soprattutto con le possibili infiltrazioni verso l'economia legale e soprattutto verso potenziali provvidenze che potranno essere l'ergia dello Stato in chiave di PNRR. A proposito di proiezioni fuori regione, per quanto riguarda soprattutto l'approvvigionamento della droga da Bari, dal Barese e anche dalla BAT, c'è questo collegamento sui Balcani che ancora persiste? Sì, sicuramente, perché anche grazie alla collocazione geografica della Puglia rende agevole il traffico di sostanze sufficienti probabilmente dall'Albania. Per quanto riguarda la BAT invece, qual è la situazione? Una condannazione sensibilmente diversa rispetto a quella barese, comunque risente molto dell'influenza della vicina provincia di Foggia. Cambiamo argomento, i numeri del bollettino epidemiologico della regione Puglia, 5.352 sono i nuovi casi su 32.229 test effettuati, 9 i decessi, 111.314 i casi nel territorio Pugliese, 717 invece il numero delle persone ricoverate negli ospedali del territorio, di cui 38 nelle terapie intensive. Però nonostante questi numeri, il Covid preme meno sulla nostra regione, a quanto pare i numeri sono in calo in tutta la regione, però sono ancora elevati, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il numero dei posti letto occupati, pari al 23,3%. Nel Varese invece le positività si riducono dell'8% nell'ultima settimana. I dettagli nel servizio di Antonio Bucci. Contagi in Puglia con il segno meno davanti, calonetto negli ultimi sette giorni, pur con cifre che restano alte al di sopra della media nazionale, superate soltanto da quelle di Abruzzo e Umbria. A dirlo il report dell'Istituto Superiore di Sanità, 1.042,7 casi ogni 100.000 abitanti contro i 1.281 della settimana precedente e i 1.352 di 15 giorni prima. Resta elevata però anche l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 23,3%. Meglio nel Varese, dove le nuove positività si riducono dell'8%, la finestra temporale presa in considerazione è quella dal 28 marzo al 3 aprile. Continua il rallentamento dei contagi già rilevato in precedenza, con un tasso di incidenza che passa da 1.321 a 1.214 casi per 100.000 abitanti. Intanto la campagna vaccinale raggiunge i 3.025.300 dosi somministrate, suddivise tra il 1.122.000 prime dosi, il 1.85.000 seconde e le 815.000 terze dosi, mentre le quarte erogate sono 2.925, fanno sapere dall'azienda sanitaria locale guidata da Antonio Sanguedolce. L'86,3% dei residenti nell'area metropolitana con età pari o superiori a 12 anni ha già provveduto a vaccinarsi con la booster con un'adesione particolarmente consistente nella fascia degli over 50 e un picco tra gli ultraottantenni. Un cuore artificiale, un sistema di ultima generazione, è stato impiantato con successo al Policlinico del Capologo Pugliese. Un dispositivo di assistenza ventricolare che preleva il sangue dal ventricolo sinistro e lo pompa ossigenato nella orta utilizzando un nuovo sistema a levitazione magnetica impiantato per la prima volta in Puglia. Un cuore artificiale, un sistema di ultima generazione, quello impiantato con successo al Policlinico di Bari per salvare la vita ad un paziente di 65 anni arrivato dalla Basilicata con scompenso cardiaco avanzato, refrattario alla terapia medica e con indicazione risultata negativa per il trapianto di cuore. Lo ha fatto l'equipe del professore Aldo Milano che guida l'unità operativa di cardiochirurgia ridotte. Le complicanze di tromboembolie dal 30 al 10% azzerate le complicanze emorragiche di trombosi della pompa. Le batterie in un'autonomia di 40 ore sono ricaricabili e i parametri possono essere monitorati a distanza direttamente dal cardiologo. Non a caso è già attivo un ambulatorio per consentire di farlo ai pazienti in assistenza che possono tornare alla vita sociale e lavorativa con limitazioni ridotte. La pompa è collegata all'esterno attraverso un cavo, un piccolo cavo, a cui è collegata una console che ci permette di modificare tutti i parametri, la potenza della pompa, la velocità. Questo tipo di sistema è indicato in molti pazienti in attesa di trapianto cardiaco. È importante quindi che la selezione e l'indicazione venga fatta in un centro che abbia accumulato esperienza sia nelle indicazioni al trapianto che nell'impianto di questi sistemi di assistenza. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Foggia dove la polizia locale è arrivata davanti alle scuole per attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici al centro delle attività della polizia locale di Foggia. Al via il progetto denominato scuole sicure è elaborato nell'ambito del protocollo di intesa tra la prefettura e l'amministrazione comunale. In questi giorni operatori della polizia locale di Foggia stanno presidiando le aree limitrofe alle scuole cittadine negli orari di ingresso e di uscita per prevenire e contrastare il fenomeno avvalendosi dell'unità cinofila di cui fa parte il cane Elliot appositamente addestrato. Testimonial d'eccezione del progetto due giganti del mondo dello sport, l'allenatore del calcio Foggia Zeman e la campionessa olimpica di scherma Martina Criscio. Io direi che droga fa male, fa male al fisico, fa male alla mente e quindi penso che si possano trovare altre attività che non fanno male visto che la salute è la cosa più importante per tutte le persone, riguardarsi e cercare altri svaghi dove si può divertire. Il mio consiglio è non utilizzare assolutamente delle droghe e non lasciarsi tentare da queste sostanze. Siete stupefacenti ma non usateli, mai. Diamo un affondo alla droga. E invece anche l'Università di Bari aderisce al LGBT History Math, un'opportunità di riflessione sul tema che ha visto anche la partecipazione dell'ex governatore della Puglia, Nichi Vendola. Orgoglio e parità dei diritti. Anche l'Università di Bari aderisce all'evento nazionale LGBT History Month, un evento che ha visto la viva e convinta adesione tra i vari del rettore Stefano Bronzini e dell'ex governatore regionale pugliese Nichi Vendola. Per il resto la giornata si è articolata in due momenti. Il primo ha visto la proiezione del cortometraggio Josh e Franco che narra la storia di due uomini, padre e figlio, omosessuali in Puglia con tre decenni di distanza. Il secondo invece ha permesso la presentazione del libro Fuori 1971-1974 per poi svilupparsi sul dibattito 50 anni di storie LGBT in Puglia. Un'occasione importante per fare il punto sulla situazione attuale tra progressi sul tema e migliorie ancora da apportare. La mia è un'università aperta al dibattito, a tutte le voci contro ogni diseguaglianza e sono certo che in queste sedi, da quelle del diritto a quelle dell'economia ma di tutte le discipline che sono rappresentate nelle università potranno collaborare anche con un mondo di idee per una legislazione che sia più all'avanguardia rispetto ai tempi. Da un punto di vista legislativo c'è ancora molto da fare perché abbiamo ancora delle grandi lacune normative rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa e quindi probabilmente qualcosa di arretrato nella nostra legislazione c'è ancora. La Corte Costituzionale più volte ha richiamato l'attenzione del legislatore su alcuni di questi aspetti ma direi che forse la cosa che lascia un po' più ottimisti è il fatto che invece a livello sociale, a livello di opinione pubblica si è molto più avanti. Restiamo nel capologo pugliese ma cambiamo decisamente argomento. Non solo il corteo storico, è stato fissato il calendario delle manifestazioni religiose e civili in onore di San Nicola si parte il 20 aprile con l'anniversario della partenza da mira dei marinai otto giorni dopo poi c'è il sorteggio dei pescherecci e domenica 8 la pattuglia tricolore. La macchina organizzativa per la tradizionale sagra di maggio dedicata a San Nicola a Bari è già partita la novità è il calendario delle manifestazioni civili e religiose già fissate, si comincia il 20 aprile prossimo con il 935esimo anniversario della partenza da mira dei marinai alle 18 la celebrazione in basilica alle 19 la rievocazione del trafugamento delle reliquie del santo per la regia di Antonio Minelli otto giorni dopo il sorteggio dei pescherecci che porteranno la statua e il quadro del patrono a mare alle 20 anche la processione in auto per le vie della città il cui itinerario è già stabilito da venerdì 29 si apre il novenario fino a sabato 7 maggio appunto data nella quale è atteso l'arrivo dei pellegrini è il giorno del corteo storico già giudicato nei giorni scorsi che dovrebbe arrivare al cospetto della basilica intorno alle 22.30 da programma domenica 8 invece il santo tornerà a solcare le acque del capoluogo alle 4.30 sarà il suono delle diane a scandire l'apertura delle porte della basilica poco prima delle 10 lo spettacolo pirotecnico nel pomeriggio il ritorno nei cei della pattuglia acrobatica tricolore il lunedì la festa dei baresi è l'anniversario della traslazione con il prelievo della manna ma gli eventi proseguiranno fino a domenica 22 con la festa della traslazione secondo il calendario giuliano ed è stato presentato questa mattina il cartellone degli appuntamenti di Borgo in Fiore il tradizionale contenitore che risveglia la città di Conversano tra fiori, eventi culinari e installazioni artistiche fiori, eventi culinari, installazioni artistiche, manifestazioni culturali e musicali arriva la primavera e con lei quindi anche tante iniziative nate dal desiderio di festeggiare la nuova stagione a Conversano è tempo di Borgo in Fiore il contenitore di eventi e iniziative ideato e promosso dal comune di Conversano è realizzato dal GAL sud-est barese sarà un'esplosione di profumi e colori che risveglieranno la città dal lungo sonnecchiare dell'inverno è primavera e tempo di Borgo in Fiore il cartellone nasce dalla collaborazione con fioristi, vivaisti, artisti locali e artigiani per promuovere rendendoli ancora più suggestivi gli angoli più e meno noti del centro storico attraverso la creazione di percorsi d'arte l'allestimento con decorazioni floreali di finestre, balconi, portoni, vicoli e slarghi iniziative culturali e sportive convegni, concerti e mostre l'interazione che è proprio quel senso che vogliamo creare in un momento in cui abbiamo bisogno di rinascere abbiamo bisogno di trasferire dei valori che siano fondamentalmente in contrasto con quello che invece è un po' il cupo, il triste che si vede in giro questo possa essere innanzitutto per i cittadini la possibilità di poter allestire le proprie case i propri balconi, i propri marciapiedi quindi questo chiediamo le attività anche commerciali quindi diamo il benvenuto a questa stagione e cerchiamo di allestire quelle che sono le nostre case e le nostre attività non vediamo l'ora che parta il contenitore Borgo in Fiore ricco di intrattenimenti, attività all'aperto laboratori per bambini, concerti, musica visite guidate, attività sportive e soprattutto tra gli altri un grande evento il primo maggio con in concerto ci saranno i Sud Sound System Sport e Salute ha ufficialmente consegnato lo stadio Puttilli al comune di Barletta avidimati gli atti di presa visione per il trasferimento delle competenze Il passaggio di consegne, trasporto e salute il comune di Barletta è finalmente realtà lo stadio Cosimo Puttilli torna ufficialmente sotto il controllo dell'amministrazione cittadina che ha preso in carico la struttura dopo che l'ex con i servizi ne aveva rilevato la competenza circa 4 anni fa con questo step si concludono le operazioni burocratiche di manutenzione di competenza dell'ente federale lasciando al comune di Barletta le ultime pratiche per la riapertura dell'impianto il sopralluogo dei dirigenti comunali e di sport e salute ha dato esito positivo e permetterà di svolgere una dimostrazione di utilizzo il prossimo 12 aprile i due enti hanno bidimato gli atti di presa visione del passaggio di consegne procedura burocratica fondamentale per il trasferimento delle competenze gli obiettivi rimanenti sono adesso 3 l'autorizzazione della commissione di pubblico spettacolo il piano di sicurezza della prefettura della BAT in quanto organo provinciale nel cui territorio è situata la struttura e il piano di sicurezza della società che si aggiudicherà i costi di gestione dello stadio seconda gara già in corso in attesa di trovare l'accordo economico tra il comune e presumibilmente il Barletta Calcio come unico gestore attualmente interessato nuovo sopralluogo martedì 12 aprile sguardo alla prossima stagione sportiva per l'inaugurazione ufficiale dell'impianto da Londra a Trani la celebrazione di un sodalizio unico che dura da oltre mezzo secolo Nunes e Barberri un'amicizia che racconta la Puglia ieri l'appuntamento celebrativo a Palazzo Pugliese storica sede del Luxury Multibrand Lontani geograficamente ma uniti da una di quelle amicizie che superano le distanze si aprono alla contaminazione una collaborazione quella tra Barberri e Nunes che dura da 50 anni e che ha regalato al tessuto sociale pugliese tradizioni da tramandare storie condivise un traquardo da festeggiare nella cornice di Palazzo Pugliese casa dello storico multibrand di Trani e vero polo del lusso in Puglia il filo diretto capace di collegare il tacco d'Italia e l'Inghilterra è stato teso già negli anni 60 quando gli impermeabili del brand arrivavano nella boutique ripiegati in bustine una storia condivisa costruita sulle solide basi della stima e dell'apertura alla contaminazione culturale se Beppe Nunes ha trasformato la sartoria del nonno in una boutique dalla PIL di un moderno caffè letterario mantenendo intatto il rapporto di complicità che fa sentire unico ogni cliente il direttore creativo di Barberri Riccardo Tisci altro pugliese doc nativo di Taranto è stato capace di trasformare nella modernità il brand inglese la moda il food l'accoglienza sono tutti settori che si fondono in una sola situazione e credo che finalmente stiamo andando verso la direzione che questa città merita nella sua bellezza naturale stiamo prendendo consapevolezza e quindi veramente siamo contenti di goderci Trani e Palazzo Pugliese nel suo splendore lui racchiude un po' tutto quello che sono i simboli diciamo i pillar di quello che sono che è la terra pugliese e in particolare la città di Trani che è bellissima quindi un inno alla bellezza Restiamo in tema perché l'ultimo trend della moda è quello di customizzare le proprie Snakers e renderle una limited edition l'appuntamento a Bari con l'artista Marcus Un pomeriggio dedicato all'arte della personalizzazione di Snakers con la creazione dal vivo di 15 esemplari unici customizzati da alcuni artisti selezionati in un negozio del capologo pugliese The Snakers Experience un'occasione per avvicinare una nuova frontiera dello streetwear visto che la personalizzazione delle scarpe rappresenta uno delle più importanti tendenze della moda degli ultimi anni molto seguita dai tanti Snakers gli appassionati di Snakers sempre alla ricerca del modello più particolare iconico veri e propri cacciatori di limited edition a lavorare su quelle che un tempo venivano definite semplici scarpe da tennis l'artista Marcus e invece a fare da colonna sonora a questo momento artistico la selezione musicale del DJ TI One tra i più apprezzati nel settore abbiamo tante lavorazioni e cerchiamo di offrire ai clienti un'esperienza anche per poter personalizzare la scarpa come vogliono quindi avere un pezzo unico solo per loro è tutto per questa edizione adesso la linea passa l'edizione dedicata a Taranto con Gianmarco Sansolino intanto grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming on demand e le pagine social grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti